Lungo Il New Jersey Che divide le corsie Tale situazione Apparentemente Può sembrare sicuramente Insignificante Per alcuni Però Se ci immedesimiamo In chi percorre la strada O con l'auto O con una moto Soprattutto E nel momento in cui queste Dovessero sorpassare Ci rendiamo conto che questi arbusti Che In alcuni casi raggiungono anche Il metro Di invasione sulla corsia Possono rappresentare comunque un pericolo Possono rappresentare perché O con la gamba O con il motociclo Possono essere praticamente toccati E provocare un eventuale Sbandamento E un conseguente incidente Allora Mi ha capitato Guardate Sono dei veri e propri cespugli Veri e propri cespugli Che invadono La corsia E Che necessariamente Vanno Bonificati Al fine di garantire La sicurezza statale Di chi le percorre la tangenziale Un invito che faccio a tutti Gli amministratori locali Questa è una situazione che Ormai Si è accavallata Avendo trascurato per due o tre anni Quattro anni praticamente Le infestanti Che hanno preso piede Non solo in città Ma anche Oltre alle periferie Anche sulle strade E arterie Importanti Qual è quella La tangenziale appunto Quindi invito tutti gli amministratori A prendere provvedimenti in merito Perché Potrebbe succedere di tutto Potrebbe succedere Ed è un peccato Piangerci addosso dopo È meglio prevenire Che curare